E' mal ritrovati, Boccaloni. So per certo quanto vi interessi questo film, dato che me l'avete chiesto almeno in tre sotto i commenti degli altri video. Perciò vedete di rimanere fino alla fine. E ci tengo a precisare che lo sto facendo soltanto perché lo voglio io, non perché me l'avete chiesto voi. Ma vediamo di andare subito al dunque, che di cappellate qua ce ne sono state parecchie e io non ho tutto il tempo del mondo da buttare. Adesso vedete di abbassare la voce e fare il massimo silenzio. Perché oggi sconfiggeremo il film Non dormire nel bosco stanotte. Siete mai stati in un campeggio popolato da orsi feroci, mutanti, ibrido, umani, alieni e tante tantissime cappellate? No? Ma che problema c'è? Vi ci porto io. Ovviamente preparatevi perché questo bosco tra le varie minacce ospita un brulicare di selvaggi spoiler assassini, crudeli, letali. Boccaloni avvisati, mezzi salvati. Riempite il vostro sacco a pelo di sassi e serpenti assonagli, mettetevi scomodi e preparatevi a sconfiggere i gemelli mutanti in un nuovo episodio di... Mangiamovie! Sono gli anni 90, uno sfortunato postino, probabilmente al suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione, deve consegnare in una baita nei boschi polacchi. Al suo interno una donna dai vestiti sporchi di sangue lava i panni in un vecchio lavabo. Il postino sente dei lamenti provenienti dallo scantinato sotto casa. Per curiosità e forse nella speranza di fare del bene, strappa un pannello di legno per liberare chiunque si è intrappolato lì dentro. Ma nessuno risponde alla sua offerta d'aiuto. Così torna da dove è venuto e si alza per riflettere sul da farsi. Ma proprio quando sta per andare a chiedere aiuto viene abbigliato per le caviglie, trascinato via. Trent'anni dopo un autobus pieno di adolescenti arriva nel bosco per partecipare a un campus in cui l'uso degli smartphone è proibito. Arrivati al camp Adrenaline, un ragazzo, il custode, li accoglie e prende tutti i loro dispositivi elettronici. I ragazzi estraggono a sorte i numeri per i gruppi del campo e al calar della notte si distraggono parlando di diete disintossicanti e suonando malissimo la chitarra. Almeno non ci torturano con la canzone del sole! Al calar delle tenebre la signora che avevamo visto trent'anni prima cerca di dar da mangiare un maiale alla persona, cosa, creatura nel seminterrato. Ma ormai è debole e stanca e accidentalmente capitombola giù per le scale. La cosa che rindiene le tenebre la uccide e fugge dal seminterrato. Allora avete individuato anche voi le più classiche cappellate che ormai conosciamo bene, no? Caro Robert Posto, lo sai che chi si fa gli affaracci suoi camp a cent'anni? Quest'uomo sarebbe dovuto risalire sulla sua piccola bicicletta e andare in città per chiedere aiuto piuttosto che esporsi a questi rischi. Per quanto riguarda la signora anziana e il suo maiale, beh, quello sembra essere più un cinghiale che è più piccolo di altre specie di maiali. Pesa circa 80 chili ma è comunque abbastanza grande da essere una seccatura per una donna anziana. Personalmente chiuderei a chiave la casa, le darei fuoco, prenoterei un volo verso, che ne so, Isla Sorca dove nessuno sa chi sono e ricomincerei da capo, tra granchi del cocco e cappellate di lusso. Al mattino un prete benedice i campeggiatori per purificarli dalla dipendenza da smartphone ed è qui che conosciamo i nostri protagonisti. Isa arriva indossando uno zaino gigante e accompagna Agniela, Zosia, Julek, Bartek e Daniel per iniziare un'escursione di tre giorni. Non avendo nient'altro da fare ed essendo un completo idiota, Bartek inizia a prendere in giro Daniel perché è un ciclista. Daniel non la prende benissimo e difende la categoria più odiata da tutti gli automobilisti di questa terra spingendo Bartek, facendolo ruzzolare giù da una collina e causandogli una ferita. Isa gli fascia la gamba sanguinante ma quando non riesce a strappare la benda con la mano per legarla, Zosia rivela che ha con sé un coltello retrattile e la taglia per Isa. Speriamo possa tornarci utile più tardi. Julek si imbatte in una carcassa di alce sventrata e piena di vermazze schifose. Isa sostiene che debba essere stato un predatore. Julek fa sommessamente notare come ogni anno in Polonia scompaiano 15.000 persone di cui 5.000 nei boschi. Zosia nota una mano disincarnata macchiata di sangue che accarezza il tronco di un albero e decide di tenere questa informazione per sé. La natura è brutale, i predatori devono mangiare, quindi vedere una specie di preda morta come questa non è sorprendente. Ma non è neanche rassicurante. In Polonia vivono solo tre grandi specie carnivore. L'orso bruno, la lince eurasiatica e il lupo. Di questi predatori soltanto l'orso bruno e il lupo attaccano gli esseri umani se si sentono minacciati o hanno dei cuccioli. Per quale motivo i genitori di questi ragazzi hanno reputato questo bosco meno pericoloso degli smartphone? Per carità sono minacce diverse ma un camping del genere lo farei piuttosto in un bosco infestato da paperelle. Isa in qualità di adulto responsabile dovrebbe anche assicurarsi che tutti sappiano come tornare al campo principale qualora dovessero separarsi. Il che rende ancora più importante assicurarsi che sappiano come usare una bussola, che sappiano in quale direzione correre per chiedere aiuto e che abbiano una mappa con sé. Zosia dovrebbe anche dire agli altri che ha visto qualcosa, certo magari omettendo il fatto che fosse una mano distaccata dal resto del corpo, Ma dire loro che ha visto qualcosa muoversi nelle vicinanze e decidere di tornare indietro indipendentemente da quel che gli altri avranno intenzione di fare potrebbe convincere Isa a interrompere l'escursione e tornare al sicuro al campo principale per ogni evenienza. Magari una volta là potrà confessare la verità a tutti gli altri. E invece al tramonto il gruppo si accampa. Aniela convince Daniela a costruire la tenda mentre lei va a nuotare in un lago vicino. Che boccalone servizievole. E chissà cosa Aniela da Aniela, eh? Avete capito? Nel cuore della notte Daniel sgattaiola fuori dalla sua tenda per godersi un po' di vapori ricreativi in riva al lago con Aniela. Che poco più tardi però ritorna all'accampamento lasciando il ragazzo da solo in riva al lago nel suo sacco a velo, dove tira fuori un telefono di contrabbando. Così immerso nello schermo non si rende conto che una torreggiante figura piomba improvvisamente su di lui come un troll di montagna. Lo prende letteralmente con le mani nel sacco a pelo e lo sbatte a morte contro un albero in stile Jason Doris. In barba alla sua mole il mutante è stato davvero silenzioso. Aniela non aveva neanche come sospettare che ci fosse in giro un mostro simile. Tuttavia in un bosco in cui so per certo della presenza di grossi predatori, col cavolo che mi allontanerei dagli altri o da un fuoco acceso per tenere lontane le bestie. E poi come fa quel telefono ad avere segnale in mezzo al fitto di un bosco polacco? Durante un incubo di Zosia apprendiamo che la famiglia della ragazza ha fatto una brutta fine in uno scontro con un camion. E che anche questo incidente è collegato all'abuso da smartphone dei suoi genitori cool e social dal selfie facile e compulsivo. Quando si risveglia nota che Daniel è scomparso. Il gruppo si mobilita e Aniela mostra tutti il punto vicino all'acqua dove l'ha visto per l'ultima volta. Ma chiaramente lui non c'è più. Zosia trova del sangue sull'albero e Isa dice a Daniela e Bartek di restare al campo nel caso in cui Daniel dovesse tornare. Nel frattempo Isa, Zosia e Jule che perlustrano il bosco. Una che vuole chiamare la polizia osservando giustamente di come le persone che si dividono nei film horror tendano a morire tipo subito. E durante l'escursione mette in guardia gli altri circa i sei peccati capitali dei film horror. Ricapitoliamoli insieme e diciamo Ascolta mio mangiamovie. E allora abbiamo curiosità. Incredulità. Feduce eccessiva e mal riposta. Se sei brutto muori prima. Il romanticismo è fatale. Come le cose da vecchi porcelli. E separarsi. Proprio come stanno facendo loro in questo momento. Arrivano alla capanna nel bosco che abbiamo visto all'inizio. Jule che sembra quello più assennato tra tutti non vuole entrarci neanche pagato. Ma Isa decide che sia una buona idea entrare in casa. Quando bussano alla porta nessuno risponde. Il trio si avventura all'interno e l'arredamento è rustico e pittoresco. Con animali impagliati alle pareti e il ritratto di due gemelli sul muro. Quando Jule che implora di tornare al campo sentono qualcosa provenire dalla botola del seminterrato. Isa e Zosia scendono in punta di piedi e scoprono il corpo insanguinato di Daniel. Jule che grida che qualcuno è tornato a casa e i tre si nascondono nel seminterrato. Passi pesanti e faticosi rimbombano sul legno screcchiolante sopra di loro facendo cadere la polvere sulle loro teste. Il portello si apre e la creatura si fa strada. Isa riesce ad aprire lo stesso varco da cui era entrato il postino 30 anni prima e Zosia e Jule che ne escono. All'improvviso il cellulare di Daniel squilla. Il tempo non basta affinché scappino tutti e così Isa decide di affrontare il brutto armandosi di un bastone. Il mutante avanza e un attimo dopo lancia la testa di Isa ai piedi di Zosia e Jule. Isa, tu eri l'adulta che avrebbe dovuto vegliare su questi ragazzi e per quanto sia nobile restare per ultima e sacrificarti sei stata davvero una boccalona. Il fatto che i ragazzi non abbiano con sé i telefoni ci sta. Sono lì proprio per questo. Vi sento a secarsi. Ma il fatto che tu non ne abbia uno con cui chiamare aiuto e denunciare la scomparsa di un ragazzo è perlomeno grave. Non hai nemmeno un walkie-talkie. Senza altro da fare, il primo passo di Isa dopo la scomparsa di Daniel sarebbe stato quello di chiedere aiuto tornando all'accampamento principale. Non è un'esperta di localizzazione e ha al seguito altri quattro campeggiatori adolescenti che devono essere tutti messi in sicurezza prima che possa andare ovunque a cercare Daniel. Entrare in casa di qualcuno in questo modo è semplicemente un gigantesco no. Bussa alla porta, chiama Daniel e se nessuno vi risponde vai via e torna più tardi con i rinforzi. Se proprio hai intenzione di violare la casa di qualcun altro, cosa che resta una cappellata notevole, chiedi a qualcuno come Julek di stare di guardia fuori vicino alla foresta. Lì potrebbe intercettare chiunque possa arrivare e spiegare il motivo della sua presenza, evitando il malinteso di trovare un gruppo di sconosciuti che ficca il naso nella loro casa. E che dire della scelta di andare nel seminterrato? Sono stati fortunati con la finestra? Non era affatto detto che potessero trovare una via d'uscita e che essa fosse larga abbastanza da consentir loro il transito. Sarei uscito da quella finestra due secondi dopo che quel primo passo tonante aveva fatto cadere un po' di polvere sulla mia testa. Isa è poco accorta e francamente incompetente. I ragazzi sicuramente hanno maggiori possibilità senza che sia lei a guidarli. Il boccalone d'oro è qui pronto per te, Isa. Ah, e per la cronaca, Julek, faresti bene a seguire i tuoi stessi stramalidetti consigli. Al campo Bartek e Aniela stanno facendo amicizia, ma quando lui si volta scopre che un secondo mutante ninja ha silenziosamente impalato Aniela, attraversandole la testa come un marshmallow con un bastoncino. Bartek corre nel bosco mentre il mutante getta il corpo della ragazza sulla spiaggia. Il ragazzo arriva alla chiesa e chiede al prete un telefono. Sfortunatamente però il monsignore lo informa che i telefoni non funzionano. Ah, ma tu guarda le coincidenze, proprio in quel momento suona un telefono. Il prete colpisce Bartek con un crocifisso e gli fa perdere i sensi. Il colpo di Cristo è stato bello forte e Bartek si risveglia frastornato e legato a una sedia con un bavaglio in bocca. Il prete sente un rumore e va fuori a indagare, scoprendo che qualcuno ha acceso la cippatrice. Il prete avanza ignorando che il mutante di 300 chili gli si avvicina silenziosamente alle spalle, cavandogli gli occhi e, manco a dirlo, smaltendo il resto del corpo nel macchinario ideato per sminuzzare i ceppi di legno. In chiesa Bartek lotta per liberarsi e, vedendo arrivare il mutante, si nasconde in un confessionale. Il colosso di grasso ormai è dentro e, povero Bartek, il confessionale è il primo posto in cui va a guardare. Allora, o questi sono mutanti ninja oppure in Polonia sono tutti audiolesi. Non lo so, ditemi voi. Una terza opzione è che gli sceneggiatori siano davvero pigri e scarsi. È piuttosto difficile prepararsi contro l'aggressione di qualcuno che non puoi sentire arrivare. Inoltre, non puoi prepararti per il prete sadico. Questa chiesa dovrebbe essere un santuario di pace e misericordia. E Bartek non aveva alcun modo di sapere che un'altra minaccia lo attendeva all'interno. Una volta che Bartek si sveglia, deve liberarsi dalla corda e raggiungere immediatamente il telefono funzionante. È legato dietro alla schiena con una corda non troppo spessa. Per aiutare ad allentare la corda, basta spingere le mani verso l'esterno contro la corda con foga e decisione. E questo dovrebbe allentare la corda. Una volta libero, una bella idea sarebbe quella di barricare le porte della chiesa con delle sedie per impedire al prete o ai mutanti di entrare e poi chiamare il numero d'emergenza polacco. E invece Bartek decide di nascondersi in una scatola piena di buchi posta appena accanto all'ingresso. Oh, sei o non sei un boccalone cappellante tu? Ma nasconditi invece dietro l'altare. E cerca eventuali aste per bandiere o crocifisse di metallo o legno che puoi brandire come arma. Meglio ancora, mantieni una visuale aperta uscendo allo scoperto. Questi bestioni sono sì enormi e sorprendentemente furtivi, ma sono anche lenti come ci si aspetterebbe che fosse una mostruosità da 300 e più chili. Possiamo surclassarli in agilità e velocità, ma non possiamo combatterli affatto. Il che significa che nasconderti nel confessionale equivale a una condanna a morte. Tosia e Jule che si imbattono nella capanna di un'eremita, il quale avverte i ragazzi che i mutanti lo hanno paralizzato anni prima. Quando i mutanti erano ragazzini, un'esplosione nel cielo li attirò verso un meteorite precipitato nella foresta. Quando quella notte i ragazzi andarono a letto, il meteorite si aprì e ne uscì una melma nera che si impossessò dei loro corpi. Al mattino la madre seguì una scia di frammenti insanguinati fino al seminterrato dove li trovò mentre manchettavano voracemente con i resti del loro cane e rinchiusali dentro affinché... Beh, il resto ormai è noto. A quanto pare questi mutanti sono ciò che accade quando il simbionte Venom ti dà i superpoteri sbagliati. La storia dell'eremita finisce, il vecchio invita i ragazzi a restare con lui, fornendo loro protezione, ma Zosia decide che le sue offerte di riparo, cibo e un vecchio fucile calibro 12 non sono abbastanza allettanti per ripararsi sul posto. Vuole tornare nella capanna degli ogre arrabbiati per prendere il telefono di Daniel. Inoltre l'uomo l'informa del fatto che la città più vicina dista due giorni di cammino. Storia o meno, non ci si può fidare di questo eremita. È stato attaccato dai mutanti in precedenza e non ha mai allertato la polizia locale o nazionale della loro esistenza. Sta anche esagerando la distanza dalla città più vicina, Anche se un anziano debole impiegasse due giorni per raggiungere a piedi la città, due adolescenti sani potrebbero probabilmente camminare per svariate decine di chilometri in un giorno, se avessero buoni motivi per andare al massimo della propria velocità. Come in effetti, è questo il caso. E comunque restare non è un'opzione. Brava Zosia! I gemelli non sono più incatenati nel seminterrato di casa. Pagano per la foresta, tagliando legna e decapitando chiunque trovino. È solo questione di tempo, prima che vengano qui a cercare il loro prossimo giocattolo. Non c'è riposo per la preda affinché i cacciatori non sono morti. Ma si potrebbe optare anche per una strategia mista. Si potrebbe stare al gioco dell'eremita e accettare di restare. Non sarebbe una pessima idea restare e aspettare finché non mette giù il fucile o si addormenta. Momento in cui si potrebbe prendere il fucile e usarlo per difendersi in caso di necessità. Tornare indietro a prendere il cellulare è pericoloso e del tutto inutile. A questo punto non hai modo di sapere se sia ancora carico. Sarebbe meglio armarsi e trovare la strada asfaltata più vicina e seguirla fino alla città successiva o fermare le auto quando le vedi. Quando Zosia e Julek arrivano alla capanna dei gemelli trovano un mutante che seziona i pezzi del corpo di Daniel. Julek sceglie di fare da esca in modo che Zosia possa intrufolarsi. Lei gli dà il suo coltello e lui si allontana verso la parte anteriore della casa dove attira l'attenzione del mutante all'esterno. Quando il mutante sale le scale Zosia entra attraverso la finestra e trova il cellulare. Sfortunatamente il mutante sta guardando dalle scale. Prima che Zosia possa stresciare fuori lo trascina dentro. Julek si precipita giù per le scale e pugnala il mutante alla schiena. Il mutante mette fuori combattimento Zosia, poi si gira e conficca il coltello nella pancia di Julek prima di chinarsi e strappargli la lingua. L'idea di venire qui è stata una cappellata col botto. State per rubare il trofeo dorato che avevo intenzione di conferire a Isa. Ma almeno il piano di usare Julek per intrufolarsi non è che faccia proprio schifo, è solo mal eseguito. Invece di andare alla porta principale Julek dovrebbe gridare per attirare l'attenzione del mutante. O lanciare sassi contro le finestre stando in piedi fuori dal cortile recintato del cottage. In modo da poter correre liberamente quando il mutante emerge. Zosia non dovrebbe entrare finché non ha visto il mutante uscire di casa. Una volta intrappolata Julek dovrebbe mirare al collo del mutante o all'arteria femorale della gamba invece che al centro carnoso. Dovrebbe anche tenere saldamente il coltello e pugnalarlo ripetutamente finché il mutante non cade. L'obiettivo non è solo convincerlo a lasciare Zosia ma assicurarsi che non possa inseguirli una volta che lei si sarà liberata. Zosia si sveglia incatenata al muro con Julek di fronte a lei bloccato con il coltello ancora infilzato nello stomaco. Zosia tira fuori il cellulare di Daniel ma non conoscendone il PIN e richiedendo un'impronta digitale usa la mano mozzata di Daniel solo per veder spegnersi il telefono subito dopo. Cerca di confortare Julek ma lui le implora di ucciderlo. Il ragazzo saggio ma al contempo idiota guida la mano di lei verso il coltello che ha nello stomaco così che lei lo giri più in profondità e lui vada a insegnare agli angeli i cliché dei film horror. Il tempo passa Zosia cerca di scassinare la serratura con il coltello e incredibilmente alla fine ce la fa anche. Trova una specie di macete e si fa strada in silenzio fuori dalla botola. Macete in mano si dirige verso il mutante. Scappare è l'opzione migliore per Zosia una volta che si è liberata dalla catena è in inferiorità numerica esausta ed è un quinto dai due bestioni. Invece di colpire lo stomaco dovrebbe mirare alla testa tagliandogli la gola molto profondamente per non lasciare spazio a errori in seguito. Zosia corre attraverso il bosco color seppia finché per la stanchezza non è costretta a camminare. Nella capanna dell'eremita costui sente dei rumori e temendo per la propria vita punta il fucile mentre qualcuno nel suo portico gira la maniglia della porta. Il vecchio fa fuoco e qualcuno fuori crolla a terra. Apre la porta e trova Bartek sforacchiato al petto sanguinante e poco dopo anche il ragazzo ci saluterà. Questo eremita dal grilletto facile andrà in pensione però Bartek cosa stavi pensando? E tu eremita sai che ci sono due ragazzi che corrono nel bosco e sanno dov'è casa tua. Avresti potuto aspettare che la porta si aprisse e vedere chi stesse entrando prima di sparare. Per quanto riguarda Bartek usa le parole. Questo lo abbiamo imparato all'asilo. Avresti potuto avvicinarti alla casa con estrema cautela guardando dentro alle finestre. Oppure sai potresti bussare come una persona normale. Nelle vicinanze Zosia attira l'attenzione di un poliziotto gridando e chiedendo aiuto. Lei crolla tra le sue braccia, il poliziotto la carica sui sedili posteriori e parte. È così distratto che investe qualcosa di ingombrante e scende. Zosia bussa al finestrino per attirare la sua attenzione ma lui non ascolta. Il mutante rimasto si alza in piedi e taglia a metà il poliziotto dalla testa all'inguine con un'ascia da battaglia. Il mutante si dirige verso l'auto della polizia. Zosia riesce a sfondare il finestrino con i piedi, si siede al posto di guida e cerca di avviare l'auto. Mentre il mutante si arrampica sul bagagliaio e inizia a fare a pezzi il tetto. Alla fine la ragazza riesce a mettere in moto l'auto e si allontana facendolo cadere. Ma una volta allontanata si ha un ripensamento. Così frena, fa retromarcia investendo due volte il mutante prima di sfrecciare verso i titoli di coda. Questo poliziotto sembra una causa persa prima ancora di scendere dall'auto. Non ascolta gli avvertimenti di una Zosia palesemente preoccupata e poi volta le spalle a un aggressore che trasporta un'ascia da battaglia gigante. Hai una pistola, perlomeno estraila e puntala verso la potenziale minaccia. Zosia invece fa la scelta giusta per accelerare e fuggire dall'orco. Ma tornare indietro per investirlo due volte potrebbe danneggiare ulteriormente questa macchina schifosa. E non è neanche certo che l'impatto con l'auto possa eliminare l'orco. Ma voi come avreste fatto a sopravvivere ai due gemelli orchi, ogri e troll? Schifi tremendi. Fatemelo sapere in un commentino qui sotto. E fatemi sapere se vi è piaciuto il video lasciando un bel pollicione in alto qui sotto. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e fate ding ding alla campanellina per non perdervi nessun nuovo contenuto del Mangiamovie. Per gli intrapidi c'è sempre l'abbonamento. Questi fantastici sticker e il titolo di Boccalone Recluta per una sola monetinella al mese. Chissà, magari anche voi condividete con i protagonisti di questo film la dipendenza da smartphone e social. Se è così, meglio per me. Guardate tutti gli altri video usciti sul canale 17 volte. Ora non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana per un nuovo e abominevole video del Mangiamovie. Come sempre vi consiglio di non mancare, altrimenti vengo e vi sequestro tutti gli smartphone. Sì, questa sì che è una bella minaccia. Non so veramente cosa fare per la scena post-credit di oggi. I gattini mannari stanno dormendo, i mangiaiutanti sono andati a fare una pausa e mi hanno lasciato qua solo come un boccalone. Adesso quelli lì arrivano e io che cosa gli dico? Siete già qua? Non lo so, ci prendiamo un caffè? Volete fare una partita a carte? Allora Boccaloni, questa volta sono stanco. Non ho voglia di ricordarvi che dovete guardare tutti i video 17 volte. E non ho nessuna voglia di ricordarvi che vi metto qui due video che potete guardare. Accidenti, questo non me lo ricordo più nemmeno io. Se non me lo ricordo neanche io significa che voi dovete guardarlo 73 volte. Forza, sbrigatevi. Ma siamo sicuri che l'ho fatto io questo video? Gattini, sicuri di non aver fatto una cappellata? Guardate che se è così vi taglio la coda. Eh sì, lo so che tanto poi vi ricresce ma a me non me ne frega niente. È troppo divertente guardarvi scorrazzare per casa con quel buon carino attaccato alle chiappe. E' troppo divertente guardare. E' troppo divertente guardare. E' troppo divertente guardare.